Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. Oggi parleremo di una vicenda che ha scosso la provincia di Trieste e coinvolto Pier Giorgio Vicentin, che ha riuscito a sventare un tentativo di truffa. Approfittando delle controversie legate alle indagini sulla morte di Liliana Resinovich, i truffatori si sono fatti passare per il figlio del marito di Liliana, cercando di estorcergli denaro attraverso messaggi. Vicentin, 73 anni, ha subito agito per evitare di cadere nella trappola dei truffatori. Dopo aver ricevuto un SMS in cui il malintenzionato si spacciava per suo figlio e chiedeva denaro per bollette, ha riconosciuto la frode quando il truffatore non ha risposto alle sue domande specifiche. Questa esperienza spiacevole ha spinto Vicentina a condividere pubblicamente il suo caso, mettendo in evidenza il pericolo di cadere in queste trappole. Nel frattempo, la questura triestina sta indagando su numerosi casi di truffa e consiglia di segnalare tali episodi alle forze dell'ordine per supportare le indagini. Nel contesto di questa vicenda, emergono nuovi dettagli nel caso della morte di Liliana Resinovich, con una testimone che mette in dubbio la versione del marito su un matrimonio felice. Il mistero intorno alla sua scomparsa e morte si complica ulteriormente, mentre trasmissioni come «Chi l'ha visto?» esplorano nuove piste e sollevano interrogativi sull'identità del possibile assassino. È importante prestare molta attenzione per evitare di cadere vittima di truffe simili. Ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Grazie di cuore.